Ciao a tutti, sono Giovanni Marziali e vi parlo dal laboratorio di Kebana di Lalio, dove insegno l'arte di composizione floreale giapponese. Siete tutti invitati ai corsi che tengo ogni due sabati al pomeriggio. Questa sera voglio parlarvi di questo libro si chiama ikebana svelato. L'abbiamo visto di recente, quando l'ho ricevuto, vi ho fatto una breve presentazione, adesso l'ho letto e volevo farvi alcuni commenti. Allora, il libro veramente scritto bene, è molto dettagliato sia per quanto riguarda le regole, ma anche per la storia dell'Ikebana. È una rarità avere un libro in italiano che parla di di Kebana, per cui ve lo consiglio a tutti, sia per chi vuole iniziare, ma anche per chi già pratica ikebana. Stasera alle mie spalle ho questa composizione che è nata proprio, l'ispirazione è nata proprio leggendo una scheda del libro e vediamo poi successivamente, vi ho fatto una piccola storia di come è stata realizzata la composizione e come vengono inseriti i rami. Per cui vi aspetto alla prossima occasione e alle lezioni. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!